ci potete spiegare come si sta facendo in questo momento? pensi che siano giochi senza affrontire, allora giochi senza affrontire, qui abbiamo viaggiotti sagissari, passolino d'Astrano, don Natale, stanno qui in questa giuria e improvvisamente Sant'Agnello si è trasformata in un luogo di divertimento dove ci sono delle squadre che si stanno affrontando, quanti ragazzi? Comunque le 5 squadre che stanno alle prese con questi giochi, è divertente, andiamo a vedere che stanno alle prese con questi giochi, è divertente, andiamo a vedere che stanno 2 metri, 2 metri di salsincia piccantissima! Grazie a Postano News che è venuta a riprendere questa prima giornata di giochi senza affrontire fare, allora... Giro per te, adesso egli salsiccia è venuta dive in self-pubb, è venuta sulla Guarda quant'è il sun, guarda. Un maschio e una donna contro due metri di salsincia piccantissima! allora vogliamo un attimo i partecipanti a questa sfida vicino al tavolo vi spieghiamo le regole 5 bottiglie d'acqua perché c'è il tavolo allora abbiamo qui per il priore team abbiamo poi partecipato signorina grazie è bello è finta squadra 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 adesso che direi qua allora anche in breve in breve ha portato la svezia abbiamo il signor Giuseppe la signorina Marisa è una parte è una parte la terza squadra BIP ha tre componenti il signor Antonio e la signorina Mariella quinta squadra a presentarsi quinta squadra a presentarsi abbiamo il signor Michele e la signorina Stefania aspettiamo la marinella aspettiamo la marinella aspettiamo la marinella un maschio e una donna un maschio e una donna in su come vedete ci stanno apprestando questi giochi senza mentire facciamo giochi senza frontiere gastronomiche non so 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 sta tutto a tutto a allora sta sul tavolo quindi sta non ci stiamo a non so solo alla parte iniziale con la parte iniziale non potete scagare con le mani allora anche per chi si guarda si crea le regole oh Ilaria allora un momento un momento di attenzione un momento di attenzione allora ando per piacere sotto la musica per potere allora levate lo spago dalle due estremità della salsiccia allora no dal centro non potete togliere perché altrimenti l'idea è praticamente già perso allora spieghiamo le regole dieci componenti ascoltate bene allora il pubblico per cui c'era un atto di silenzio i dieci concorrenti i dieci concorrenti ascoltino allora con le mani per piacere le squadre per piacere allora chi non ascolta prendete penalità non possiamo fare nulla allora regole per questa sfida che non serve allora una bracciatina mi conosciuto quieste una bracciatina la schiena ti sforchi là tu la vacanza non serve la vacanza non serve più non serve proprio nei sacoli una bracciatina una bracciatina una bracciatina una una bracciatina la malattia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le mani! Le mani! Le mani! Le mani dietro! Le mani! Le mani! Le mani! Le mani! Le mani! Le mani dietro. Le mani dietro! Le mani dietro! Le mani diкуza! Le mani dietro! Grazie a tutti.